Ciao a tutti, io sono Marcello e vi do il benvenuto nel terzo video della serie in cui vi spiego come stagionare un prosciutto dall'inizio alla fine. Dopo le prime due fasi che abbiamo affrontato nei mesi scorsi di salatura e speziatura, trovate i link in descrizione, oggi affronteremo il terzo step, che è quello della stuccatura o, più in gergo, sugnatura. Sugnatura che deriva dalla parola sugna, ovvero il grasso del maiale che utilizzeremo in questa fase. È un procedimento semplicissimo che richiede pochissimi ingredienti, vi serve appunto la sugna, che potete procurarvi da qualsiasi macellaio o salumiere, uno spazzone per pulire il prosciutto e uno straccio eventualmente, ma veramente è una fase molto molto semplice. La sugna si ottiene proprio da una parte del maiale che ha questo nome e che viene fatta bollire e mischiata poi con farina e pepe per ottenere questo composto o molliccio che sembra quasi pongo, che ha due funzioni molto importanti. La prima è quella di rendere omogenea la stagionatura, perché, diciamo, simula l'effetto della cotica sulla parte dove la cotica non c'è e quindi permette alla stagionatura di procedere in modo unitario, ora che le temperature si alzano con l'arrivo dell'estate. In secondo luogo ha una funzione di protezione fondamentale, perché impedisce alle mosche e agli altri insetti di fare i loro nidi nel nostro prosciutto, proprio adesso che arriva la bella stagione e arriva il caldo. Bene, ora che abbiamo fatto questa piccola introduzione, possiamo andare di là, prendere i prosciutti e iniziare il lavoro. Eccoci qui in laboratorio per la terza fase della lavorazione del nostro prosciutto, che è la stuccatura o sugnatura. È una fase che non richiede particolari attrezzi o strumentazioni, serve come sempre il nostro spazzone e ovviamente la sugna. Si compra già confezionato in questo modo, io ne ho preso un chilo per quattro prosciutti, voi ovviamente regolatevi in base ai vostri prosciutti. Si può in realtà anche produrre in casa comprando la sugna vera e propria, la parte del maiale, ma è un procedimento abbastanza lungo che io non conosco e quindi agisco in questo modo comprandola già fatta. La prima cosa da fare ovviamente è prenderla. Io vi consiglio di tenerla fuori dal frigo per un paio d'ore in modo che si ammorbidisca perché ha la consistenza del pongo. Prima di iniziare, la cosa da fare ovviamente è pulire il prosciutto dal pepe che avevamo applicato la volta scorsa. Quindi con il nostro spazzone, ben fermo in mano, non dobbiamo far altro che spazzare un po' via il pepe e eventuali muffe che si sono create. In maniera anche abbastanza grossolana l'importante è assicurarsi che il grosso venga via. Una volta fatto ciò, questa lavorazione è relativamente veloce, nel senso che è sufficiente prendere una porzione di sugna nella vostra mano e iniziare ad applicarla partendo, come sempre ormai lo sappiamo, dalla zona intorno all'osso che è quella più delicata e più critica. Quindi in questo caso proprio la spingete come se fosse del pongo attorno all'osso per evitare che appunto qualsiasi insetto possa entrarvi dentro. Una volta che avete finito questa parte importantissima, mi raccomando state attenti a non lasciare nessuna fessura perché potrebbe essere cruciale, un errore veramente che potrebbe costarvi caro e potrebbe portarvi a buttare via il prosciutto intero. Dopodiché non è necessario applicarne tantissima, a volte si vedono prosciutti pieni di sugna su tutta la cosa che è più secondo me un vezzo estetico che non una vera cosa utile per la vostra stagionatura. L'importante è che vi concentriate sulle crepe e sulle fessure, proprio i punti più facili e preferiti da mosche e altri insetti. Con il pollice la spingete in queste fessure per chiuderle, come potete vedere, come sto facendo io adesso. Voi continuate così, utilizzando proprio il pollice come se fosse un pennello e la sugna come se fosse del pongo. Se vedete che ne avete messa troppo, ovviamente potete tranquillamente o spalmarla o direttamente rimuoverla. Mio nonno mi ha sempre insegnato a non esagerare perché non è necessario metterle troppo. Vedete, è importante appunto queste crepe, invece è molto importante coprirle perché qui sì che invece le mosche possono entrare. Potete usare anche il palmo delle mani, un po' come facevamo qualche mese fa per il sale. Procedete appunto. Sempre partendo dall'interno e andando verso l'esterno perché via via l'esterno è meno sensibile e richiede un'attenzione diciamo meno precisa, mentre le parti interne sono quelle più importanti da proteggere. In ultimo ma assolutamente non meno importante dobbiamo occuparci di questa zona. Questa zona è la zona magra ed è per questo che la sugna serve, per ammorbidirla un po', perché se queste parti grasse, come vedete, sono già morbide di loro e non hanno bisogno che aggiungiamo della sugna, qui invece si rende necessaria proprio per ammorbidire la carne ed evitare che il prosciutto si secchi. Quindi procediamo. In questa zona potete tranquillamente abbondare, quindi col palmo della mano mettetene un po' e spalmatela proprio come se fosse pongo, in questo modo. Perché se è vero che non è necessario mettere tantissima sugna come nei prosciutti che vedete esposti al supermercato, è altrettanto vero che se viene messa un motivo ci sarà, quindi un po' serve. Utilizzate le dita e il palmo della mano per spalmarla in modo uniforme, senza creare grumi, senza creare mucchietti troppo spessi, ci basta un lieve strato ma uniforme e che ricopra tutto il prosciutto. Un'altra parte importante, che di solito a volte ci si dimente, è lo zoccolo. Lo zoccolo è fondamentale, anche qui è sufficiente un po' di sugna per tappare proprio la parte alta e prevenire qualsiasi possibile ospite indesiderato. Ecco, mettiamola qui. Visto che quest'anno abbiamo realizzato i prosciutti facendo questi tagli, alcuni mi sono venuti un po' troppo profondi, qualcuno me l'ha scritto anche nei commenti e aveva ragione. Io ne metto un po' anche qui, proprio per evitare che possa succedere qualcosa anche a queste fessure. In generale, appunto, la regola è mettete la sugna dove sapete che gli insetti potrebbero fare un nido fondamentalmente. Ecco fatto. Una volta che avete sugniato tutti i vostri prosciutti, li potete appendere nuovamente e li potranno continuare a riposare per i mesi a venire. Per cui, io personalmente risposto dalla zona che avete visto nei video precedenti a un'altra, semplicemente per una questione di spazio più adeguato alle temperature estive. Ma questa non è una regola, dipende veramente dal posto in cui voi li conservate che, come abbiamo detto nel primo video, deve essere un posto fresco, arieggiato e riparato da fonti luminose molto forti. Per cui, ritornate ad appendere i prosciutti dove erano e lasciateli lì, controllateli ogni tanto. Ecco fatto. Anche questa terza fase della lavorazione è giunta al termine e la stagionatura del nostro prosciutto ora può procedere in maniera del tutto autonoma almeno per altri sei mesi. Aspettate che arrivi l'inverno, prima anche solo di pensare di farlo tagliare. La lavorazione, come vi dicevo, si conclude qui. Non ho altre cose da insegnarvi, se non il fatto di andarli a controllare periodicamente, spazzarli dalle muffe che si formeranno, ma come abbiamo imparato, sono muffe buone, fisiologiche, che garantiscono che il prosciutto sta stagionando correttamente e non sta marcendo. Per qualunque dubbio, domanda o richiesta di supporto che vi viene in mente durante la vostra lavorazione, potete tranquillamente scrivermi nei commenti. Ricordatevi che io non sono un macellaio, non sono un salumiere, ma sono un semplice appassionato che ha imparato a fare questo procedimento da suo nonno. Quindi non sono un esperto e le regole che vi do io non sono regole universali, ma sono semplicemente il frutto di quello che ho imparato in circa dieci anni di lavorazione. Iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime novità e grazie mille per avermi seguito fino a qui.